La pagina sportiva, parliamo di calcio, prosegue la caccia al direttore sportivo in casa Biancazzurra, nel Pescara, dopo Pietro Fusco e Marcello Di Giuseppe. La società ha contattato Roberto Goretti, ex DS del Perugia, che però non ha intenzione di accettare la proposta. Bisognerà ancora attendere per conoscere il nome del nuovo direttore sportivo del Pescara, dopo Pietro Fusco nell'ultima stagione alla San Benedettese e l'ex Teramo Marcello Di Giuseppe, ora a Latina, il Delfino ha contattato Roberto Goretti, che però non ha intenzione di accettare l'offerta.